Grazie a tutti. Nuovi casi in Sardegna, in calo rispetto al bollettino della giornata precedente, ma con un numero costante di tamponi, più di 4.000, se invece le vittime registrate. Crescono i ricoveri, sia in reparti non intensivi, ieri più 6, e condo complessivo salito a 424, sia in terapia intensiva saliti a 56, ieri due in più. Anche se va detto che la Fondazione Gimbe, nell'indagine settimanale sull'emergenza sanitaria nelle regioni, ha fatto sapere che la Sardegna è ancora una delle dieci regioni a non aver ancora raggiunto la saturazione negli ospedali Covid. Per quanto riguarda gli altri dati del bollettino diffuso dall'unità di crisi, ieri si sono registrati 174 guariti in più. Intanto sembra in qualche modo sgonfiarsi il caso discoteche, scoppiato in questi giorni perché è spuntata ieri una PEC che porta la firma di uno dei quattro componenti del Comitato Tecnico Scientifico, che l'11 agosto scorso concordava di fatto sulla via libera all'apertura delle discoteche Sardegna, a condizione che fossero all'aperto e che venissero rafforzati i controlli delle forze dell'ordine. Vedremo quindi cosa accadrà ora se la procura di Cagliari archivierà l'indagine, almeno per quanto riguarda la parte sul reato di epidemia colposa. Questa mattina invece il Presidente della Regione, Cristian Solinas, con l'assessore alla Sanità Mario Niedu, ha tenuto una conferenza stampa per delle comunicazioni sul piano di intervento relativo alla pianificazione organica per l'emergenza Covid nei prossimi 40 giorni in Sardegna. Dal Ghero intanto proseguono i lavori per allestire il terzo piano dell'ospedale marino. Si stringono i tempi per il terzo piano del marino che nei prossimi giorni potrebbe ospitare i primi pazienti Covid. Di pari passo dovrà andare ovviamente la dotazione di personale, forse la grana più grossa da risolvere in questo momento. È stato lo stesso dottor Giochino Greco, direttore sanitario del civile nel marino, a fare il punto nella riunione di commissione mercoledì. Il direttore sanitario ha evidenziato l'importanza proprio dell'apertura dei 46 nuovi posti letto presso l'ospedale marino, su cui si sta lavorando con grande impegno e celerità sul potenziamento del personale e della struttura, ha detto. Sul presidio si stanno investendo risorse finanziarie importanti, un milione e mezzo di euro, sul pressing del Presidente del Consiglio regionale Michele Paes. Sull'assistenza ai malati di altre patologie, il dottor Greco ha precisato che l'assistenza è garantita. In questo momento gli ospedali lo stanno facendo. L'indice basso di RT ci consente di utilizzare i reparti per le specialità alle quali sono dedicate. Non abbiamo chiuso alcun reparto, non abbiamo chiuso ambulatori, non è stata soppressa nessuna attività. Le accessi all'ospedale civile per le visite in Torino, ginecologia, cardiologia, urologia, sono aperte. Portiamo comunque avanti le esigenze del territorio. Ha chiarito in risposta soprattutto ad alcune domande dei consiglieri. Sui dati dei positivi Greco ha confermato che l'unica fonte a cui attenersi è quella dell'ATS per evitare di diffondersi di bufale, per evitare di far circolare notizie non verificate e ha sottolineato che Alghero registra l'indice RT più basso di molte altre realtà. La Commissione Consigliare Sanità, con la presenza del Direttore Sanitario, è stata la prima di un percorso di approfondimento. Previsti diversi incontri ai quali saranno ospitati i medici di base, i primari, gli infermieri, gli operatori sanitari, gli anestesisti, i rappresentanti sindacali delle categorie. Il Presidente della Commissione, Cristian Mulas, ha calendarizzato la serie di incontri con l'obiettivo di avvicinare la politica a tutti coloro che stanno affrontando la pandemia in prima linea. Abbiamo fatto così il punto sulla situazione algherese, vedremo se nei prossimi giorni ci sarà necessario più che altro l'apertura del reparto per pazienti Covid anche ad Alghero, ovviamente ci auguriamo che questo non ci sia. In questa fase emergenziale però un altro dei settori che ha sofferto per la crisi e continua a soffrire visto lo stop a campionati e allenamenti di gruppo e lo sport, soprattutto dilettantistico. Ne abbiamo parlato con Antonello Muroni, responsabile della Palacanestro Alghero e consigliere comunale. Situazione emergenziale, ha messo un po' in ginocchio tutta l'economia, ma in grande difficoltà anche lo sport, soprattutto quello dilettantistico. Assolutamente sì, è una situazione molto molto difficile, dove praticamente tutte le associazioni sportive dilettantistiche che sono in grossissima difficoltà, ma di tutte le discipline, non ce n'è una a che si salvi, perché in questa situazione particolare non ci sono i ragazzi che vengono a giocare, mancano i piccoli sponsor, i grandi sponsor, per cui è un disastro, un disastro totale da questo punto di vista. Come se ne potrà uscire? Come se ne potrà uscire? L'unica situazione è provare a tenere duro, però vedo che ci inizia anche già una sorta di disinnamoramento anche da parte degli stessi ragazzi e delle stesse famiglie. Questa paura ormai sta diventando attavica, per cui veramente noi stiamo provando a operare un paio di volte alla settimana all'aperto, ma anche là vediamo che i numeri sono ridottissimi, nonostante rispettiamo alla letta e a tutti i protocolli. Bisogna avere pazienza, io spero che prima di marzo 2021 non se ne venga fuori. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, tra poco con la seconda parte. L'Assemblea del Parco di Portoconte dell'area marina protetta Capocaccio e Isola Piana riunita ieri in videoconferenza ha dato il Via Libera con 15 voti favorevoli e 3 astenuti e il documento contabile riferito alla gestione dell'esercizio 2019. Si è parlato inoltre di vari progetti realizzati e altri ancora in itinere dell'incremento di visitatori negli ultimi 4 anni. Visti i numeri e accadimenti eccezionali del 2020 legati alla pandemia, l'annualità 2019 può essere considerata come riferimento ordinario per rappresentare le possibilità e il contributo che Parco e area marina protetta possono assicurare al territorio nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. La struttura contabile del rendiconto evidenzia un totale delle entrate e delle corrispondenti spese che raggiunge quasi i 3 milioni 600 mila euro con una costante crescita rispetto alle annualità precedenti. Oltre al contributo ordinario di funzionamento assicurato dalla Regione per 600 mila euro annui e del Ministero dell'Ambiente per altri 106 mila euro, grazie alla propria capacità progettuale l'ente Parco ha ottenuto finanziamenti regionali, nazionali ed europei per progetti per un importo totale di quasi 2 milioni 700 mila euro. A questi si aggiungono anche le entrate proprie per autofinanziamento, circa 157 mila euro. La relazione sulla gestione presentata dal Consiglio Direttivo all'Assemblea evidenzia il grande impegno profuso per le attività di salvaguardia e tutela ambientale, per la riqualificazione degli insediamenti storici, per la promozione e fruizione, per il marchio di qualità ed educazione ambientale. Grande importanza e lavoro realizzato ancora in corso per la salvaguardia e fruizione della Laguna del Calic, per la tutela della vifauna marina in collaborazione con l'ISPRA, ma anche per il contenimento della fauna selvatica e la salvaguardia forestale in collaborazione con l'Agenzia Forestas. Prosegue inoltre l'opera di riqualificazione degli immobili storici avviata fin dal 2015 con la realizzazione delle aree museali di Casa Gioiosa, Torre Nuova, Torre San Giacomo, Porticciolo e delle strutture di supporto alla fruizione a Prigionette, Punta Giglio, Villa Romana, Sant'Imbegna, il Calic. Nel 2019 sono state inoltre poste le basi per i nuovi e importanti interventi riguardanti la realizzazione di un'area di sosta a Tramariglio e per lo sviluppo della mobilità elettrica, le opere di valorizzazione per la fruizione della Grotta Verde, la cui apertura al pubblico è prevista per la primavera del 2022, per la mitigazione del rischio frane in falese e per il potenziamento dei percorsi per la fruizione a Punta Giglio. Rilevanti anche i risultati della promozione fruizione naturalistica e turistica con un incremento medio dei visitatori del 50% negli ultimi 4 anni e dell'educazione ambientale che ha visto un aumento di presenze da parte degli studenti pari al 34%. Cresciute del 51% rispetto al 2015 anche le imprese che hanno sostenuto il marchio di qualità del parco e che collaborano ad importanti nuovi progetti, quali quelli della filiera cerealicola, del biodistretto del parco, del circle meat per la creazione di una filiera corta regionale della carne bovina. Fra le attività innovative di ricerca e sviluppo nel 2019 si è consolidato il ruolo del parco quale centro di competenza e sperimentazione per la produzione di energia da moto ondoso. Un rendiconto che mette in luce a chiare lettere lo sviluppo di questi anni del parco e dell'area marina protetta, ha sottolineato il presidente Raimondo Tilloca. Questo lasso di tempo rappresentando un ciclo sarà da stimolo ed esempio per continuare tale virtuoso percorso di crescita. E ieri si sarebbe dovuta tenere anche la riunione della terza commissione convocata da Monica Pulina per parlare di opere pubbliche e in particolare di ex cotonificio. Commissione che però è saltata per mancanza del numero legale con il centro-sinistra che ancora una volta ha attaccato la maggioranza. La terza volta che capita nel giro di pochi giorni tra consiglio, commissioni e assemblea del parco hanno scritto i gruppi di opposizione. Nel centro-destra è inutile nasconderlo, il clima è teso, abbastanza teso, soprattutto dopo il documento firmato da gran parte dei partiti di maggioranza. Tra questi non c'è Noi con Alghero. Questa mattina abbiamo approfittato della presenza nei nostri studi e l'abbiamo sentito prima di Antonello Muroni che è coordinatore cittadino di Noi con Alghero e con lui abbiamo parlato anche della situazione politica. C'è fermento in maggioranza, alcuni partiti hanno firmato un documento chiedendo sostanzialmente al sindaco una verifica. Non c'è Noi con Alghero, come mai? Allora guardate, in questo momento particolare l'unica crisi che io vedo è quella che vive la città di Alghero, che vive l'isola, che vive il mondo intero. Qua veramente siamo alla frutta. L'unica crisi che noi tocchiamo con mano è questa, questa dei commercianti, delle associazioni sportive, dei liberi imprenditori, dei piccoli imprenditori. Questa è la vera crisi. Per cui in un momento così particolare pensare a situazioni particolari di verifiche, di cambi, trovo veramente ridicola e fuori da ogni luogo. Centrosinistra che vi ha attaccato, avete fatto gli auguri ai sindaci Neeletti, a Quartu, Porto Torres e Nuoro. Vi hanno detto, insomma, non salite sul carro. Allora guarda, intanto io penso sia doveroso in un periodo come questo fargli auguri ai sindaci che vanno a operare in una situazione del genere. Per cui, a parte il fatto che esiste anche un rapporto amicale con alcuni di questi, ma noi come lista civica ci siamo semplicemente, abbiamo semplicemente fatto gli auguri a questi amici che si sono messi in discussione. E che, devo dire, faccio l'esempio del sindaco di Nuoro, non era, se non ricordo mai, non era ben voluto dal centrosinistra, tant'è vero che non lo volevano, volevano fare primarie e lui con grande capabilità ha messo su delle liste civiche e ha vinto, così come ha vinto Graziano a Quartu e così come hanno vinto a Porto Torres. Per cui il nostro era un voler rappresentare, e penso fosse doveroso da parte di tutti, un augurio di buon lavoro. Io devo dire che formidabili sono loro, tant'è vero che prendo note, anche io ho preso il taccuino che mi hanno consigliato per prendere un pochino di appunti sulle loro aspettative. Proseguono gli interventi di copertura degli asfalti nelle sezioni interessate dal passaggio della rete del gas. L'appalto sottoscritto dalla precedente amministrazione con le prese esecutrice dei lavori prevedeva che l'intervento fosse limitato alla sezione di asfalto tagliato con il limite massimo di un metro. I tecnici comunali stanno verificando l'esatta realizzazione dell'intervento di copertura che a fine lavori dovrà essere collaudato. Questo è un po' il punto della situazione. Interventi mirati, però anche per quanto riguarda Borgate e Agro. Il punto nel prossimo servizio. Vanno avanti i lavori di copertura degli asfalti, dunque nelle sezioni interessate dal passaggio della rete del gas. Tutte le anomalie riscontrate dovranno essere necessariamente sanate. L'assessorato ai lavori pubblici, riporta all'assessore Antonello Peru, presta pertanto la massima attenzione per la corretta esecuzione dell'intervento pur nei limiti di un appalto ereditato. Le stesse considerazioni valgono nel campo delle manutenzioni laddove è stato predisposto per la prima volta con la società in house uno stradario dettagliato delle vie nelle quali il mantro stradale disconnesso dovrà essere ripristinato. Gli operai della partecipata, su espressa richiesta dell'assessorato, sono a lavoro in diverse vie cittadine impegnati anche nel rifacimento dei camminamenti. La stessa attenzione viene rivolta alle borgate con interventi mirati alla messa in sicurezza delle alcune vie, non da ultima quella dell'Arenosu. Prosegue inoltre il confronto con la Regione al fine di reperire risorse per la manutenzione delle strade di penetrazione agraria. È stato questo tra gli altri l'argomento messo sul tavolo del recente incontro del 4 novembre a Cagliari del sindaco Mario Conoci e il vice sindaco Giovanna Caria con l'assessore agli enti locali Quirico Sanna. Infatti, aggiunge ancora il delegato alle manutenzioni, la precedente amministrazione si era limitata a classificare le strade da regionali a comunali. In sostanza si è solo cambiato il nome, ma si è scordata, scrive Peru, di perfezionare il trasferimento di proprietà e soprattutto non sottoscriveva alcun accordo con la Regione in ordine alle risorse da impegnare per la manutenzione dei 120 chilometri circa di strade. Infatti è impensabile che un'amministrazione si accolli la manutenzione di questi beni in assenza di fondi. E ancora, prosegue Peru, il mancato trasferimento del bene impedisce all'amministrazione di partecipare ai bandi per la riqualificazione di questi percorsi stradali. In passato la Regione aveva già cercato di trasferire la proprietà delle strade di penetrazione agraria al comune di Alghero, il quale aveva subordinato il passaggio alla contestuale assegnazione delle risorse necessarie appunto alla loro manutenzione, questo proprio per evitare di accollarsi spese insostenibili. È recente inoltre l'incontro con la Laore per sollecitare l'ente alla manutenzione delle alberate di loro proprietà. L'assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni è costantemente impegnato in città e nell'agro con interventi manutentivi e di messe in sicurezza mirati, cercando di colmare le lacune e lo stato di abbandono, conclude l'assessore Peru. E a proposito dei lavori della rete del gas, le opere di pose in opera delle condutture del metano si spostano ora nel centro storico, gli scavi si stanno realizzando in Via Doria dove continueranno fino al 23 novembre. Da lunedì fino al 16 novembre i lavori in Vicolo Burania, dal 23 novembre fino al 7 dicembre in Via Gioberti, il primo dicembre sarà la volta di Via Roma fino al 7 dicembre. Anche in questo caso lo stesso giorno è previsto l'inizio delle opere in Via Principe Umberto fino alla conclusione definita il 21 dicembre. La realizzazione della rete del metano ad Alghero è sostenuta da un investimento di 15,7 milioni di euro e si conta di completarla entro l'estate 2021. Sono meno di 30 chilometri di rete da realizzare ancora nell'area urbana e parte appunto nel centro storico. I lavori appaltati all'impresa CPL Concordia, società cooperativa, hanno interessato la dorsale urbana con reti periferiche e diramazioni nelle abitazioni per la fornitura del metano. Il primo importante step del processo di ammodernamento infrastrutturale della città è stato compiuto con il test eseguito ad agosto da parte della Medea, gestore della distribuzione del gas di città d'Alghero in Sardegna. Una parte della rete è realizzata, 10 chilometri, sono già pronti per alimentare le case del quartiere della Pietraia Lido con il gas naturale per uso domestico. Alghero è infatti la prima città in Sardegna a utilizzare il metano, la risorsa energetica ecologica e conveniente che consente di mantenere ed elevare la qualità della vita, sostengono in una nota dal Comune. Per oggi è tutto, io come sempre vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.